ciao a tutti ragazzi io sono robbie e bentornati sul mio canale oggi andremo a realizzare insieme uno slime ispirato alla cioccolata calda che tanto ci fa piacere bere durante l'inverno e la faremo piena zeppa di marshmallow proprio come la prendono gli americani come la bevono gli americani per prima cosa ho preparato una tazzina carina che sarà il contenitore del nostro slime e ho preso la mia base vinilica quindi quella con la colla bianca voglio dare una profumazione al mio slime e ho preso la profumazione al caramello che gli dà questo profumo assolutamente goloso diamo una bella mescolata e non vi dico che profumo pazzesco di caramello ora però diamogli anche il colore della cioccolata quindi prendo un po di color acrilico marrone e vado a mescolare il tutto ho ottenuto questa colorazione che ricorda diciamo una cioccolata al latte che sono poi quelle che a me piacciono di più rispetto a quelle fondenti ora non ci resta che andare a realizzare i nostri marshmallow ovviamente lo faremo con quindi per prima cosa vado a prendere della clay bianca lo suddivisa in cinque palline e vado a dare proprio la forma del marshmallow in realtà è una cosa molto molto semplice dovete immaginare di fare una specie di cubetto di schiacciarlo un pochino alle due basi e poi di arrotondarlo sui bordi il gioco è fatto ecco che così avrete tanti piccoli marshmallow super facili e che sembrano davvero molto molto realistici oltre ai classici marshmallow ho provato a fare quelli a spirale quindi ho preso una parte bianca e una parte in questo caso celeste ho realizzato due bastoncini e poi come al solito fate la vostra giratina ed ecco qui che si crea una spirale di marshmallow ne ho realizzato uno bianco celeste uno bianco e verde e uno bianco e lilla ditemi magari qual è il vostro preferito bene ora abbiamo tutti i marshmallow pronti non ci resta che versare la cioccolata nella tazza guardate si prende anche benissimo con il cucchiaino è un aspetto super realistico che ne dite non ci rimane che andare a mettere i nostri marshmallow sopra la cioccolata calda lasciatemi dire così quindi sistemiamo per bene il sopra dello slime e mettiamo i nostri marshmallow l'effetto devo dire mi piace tantissimo e spero piaccia anche a voi ora non ci resta che mixare il tutto e goderci un pochino di asmr di questo slime non ci resta che mi piace tanto bene Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Bene ragazzi, il mio video termina qui. Come vi dicevo, spero tantissimo che questo slime vi sia piaciuto. Io devo dire che penso sia stata un'idea molto molto carina. È super divertente ricreare il marshmallow e soprattutto questa bevanda super realistica. Il risultato è meraviglioso perché io adoro gli slime che si gonfiano, gli inflating slime mi piacciono da impazzire. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se vi è piaciuto e se avete qualche altra idea per andare a realizzare altri slime ispirati magari al cibo o alle bevande. Io vi ringrazio come sempre per il sostegno che vi date, vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!